Sportello Universo Donna, Gianna Cavallo, responsabile del settore servizi sociali e pari opportunità dell'associazione Stella Maris che ha dato vita appunto a questo sportello, intende rivolgere il suo messaggio augurale per il Santo Natale. Un momento difficile per Taranto, un momento difficile per tante donne, ma anche la luce della speranza che la vostra iniziativa sta offrendo al territorio. Sì, il messaggio vuol essere soltanto, è molto semplice, è quello proprio di augurare a tutte le donne, ma a tutti comunque i cittadini di Taranto e di provincia, di passare davvero un Natale con serenità, con pace e con salute, che sono, credo, i valori più essenziali in questo momento. Prima, insomma, Luigi hai detto questa luce di speranza, e noi in maniera anche molto umile, voglio dire, ci proponiamo affinché le donne possano sentirsi accolte, accettate e che possano portare poi all'interno delle proprie famiglie, dopo aver fatto un percorso con noi, tanta serenità, anche perché la donna è il fulcro della famiglia. La famiglia è il fulcro della regina del focolare domestico. La regina del focolare domestico. E durante le festività si sente ancora di più questo peso, questo peso ma anche questo grande dono che il Signore ha dato a tutte le donne. Quindi un augurio a tutti, uomini e donne, per questo Natale. A tutti, uomini e donne, e soprattutto un abbraccio a tutti i bambini. A tutti, uomini e donne, e tutti i bambini.